La tecnica è essenzialmente la volontà, quindi l'uomo è tecnico da quando incomincia a vivere, per vivere deve farsi largo di fronte alle potenze che ha dinanzi e da principio queste potenze l'uomo le chiama il tremendum, è insieme il luminoso, il sacro Dio. Allora, l'uomo è tecnico in quanto incomincia a farsi largo in Dio, cioè incomincia a uccidere Dio. Quindi da che c'è volontà umana c'è tecnica, poi la volontà umana si sviluppa man mano che il largo che si è fatto si è consolidato e ulteriormente ampliato. Che cos'è oggi la tecnica? Potrei dire è un sistema di sottosistemi in cui c'è certamente la volontà di potenza, la quale si avvale per la prima volta in modo decisivo, si avvale del contributo della scienza. E quindi il carattere matematico della tecnica oggi è qualcosa di prescindibile. Però se domani dovesse accadere che pregando si muovono le montagne, più di quanto si muovono usando la tecnica matematicamente intesa, allora la vera tecnica sarebbe quella che riesce a muovere le montagne pregando. Quindi la matematicità è connessa situazionalmente, cioè attualmente la matematicità è connessa alla tecnica, come il coefficiente che oggi contribuisce più di ogni altro a rendere efficaci i progetti della tecnica. Ho detto prima che la tecnica è sistema di sottosistemi, perché questo carattere determinato dalla matematicità e dalla presenza delle scienze dure, fisica soprattutto, questo carattere si presenta in ciò che per esempio chiamiamo sistema finanziario, sistema economico, sistema politico, sistema militare, sistema sanitario, sistema scolastico, ecco questo è l'insieme dei sottosistemi di qualche cosa che dunque oggi ha un carattere tendenzialmente planetario e qui la radice della globalizzazione, quindi la tecnica come sistema dei sottosistemi che ho descritto, ognuno dei quali tenta a volte di rendersi autonomo rispetto al sistema, ma allora risulta perdente. Grazie Grazie Grazie